E bella a tutti ragazzi e benvenuti qui in questo video augurio natalizzo Siamo qui con il mio cagnolino che oggi si metterà nei panni di una renna Ovviamente così, raga è il massimo che sono riuscito a fare E' uscita una foto su Instagram, vi ricordo di guardare tutti i link in descrizione Allora ragazzoni, noi oggi con le lucine di Natale nello studio e l'albero di Natale e tutto Vi voglio fare un vero e proprio augurio E per ovviamente buon Natale, buon Natale, buone feste Questo video non sarà tagliato, quindi buon Natale, buone feste e tutte le festività comunque che ci saranno fino a quest'anno Ovviamente questo qui è il video speciale, io vi ricordo che oggi saremo in live magari non alle 18 Ma faremo, cioè saremo sicuramente in live alle ore 21 sul canale Viola Trovate sempre tutti i link in descrizione Quindi ragazzoni, io e Macchiolina, vi salutiamo dai Macchia, saluta un po' Ok, niente, io e Macchiolina vi salutiamo, vi auguriamo ancora una volta buone feste a voi e famiglia Vi ricordiamo di lasciarci un bel like sul nostro profilo Instagram E niente, bella raga Quindi ci si becca stasera